Benvenuti in un nuovo video e finalmente ragazzi io se l'abbiamo fatto questo video da tanto tempo eccoci qua col secondo episodio di The Gustabox nel mese di aprile volevo dirvi un paio di cosucce per me di iniziare, a parte che vi lascio giù nell'info box quella di marzo quindi sia lo spacchettamento che la challenge io spero di riuscirlo a fare anche per il mese di aprile ma lo scopriremo insieme nel mentre nel guardare anche perché questo mese non sappiamo proprio noi infatti abbiamo visto le persone che tipo ci collaborano non abbiamo schifato subito comunque volevo dire la prima cosa che io non collaboro con loro però dando la possibilità a tutti coloro che acquistano su The Gustabox quindi automaticamente anche voi io giù nell'info box vi lascio un link ovviamente non affiliato che invece di pagare la prossima box quindi che sarà quella di maggio 15 euro la pagherete solo 10 euro quindi ragazzi secondo me conviene compresa di spedizione arrivo a concorrere Bartolini vi dico già che anche se voi ordinate comunque la box ad aprile e ordinato ovviamente quella di maggio vi arriverà a fine maggio quindi tranquilli perché vi arriverà a fine maggio poi Bartolini vi manda il tracking e tutto e poi automaticamente una volta che voi fate l'ordine e vi registrate potete farlo anche voi vi danno codice e link le date di amici e parenti e anche così voi potete e quindi questa cosa per me è fantastica quindi ti direi di aprirla ok guarda vai apriamo apriamo ha inizi a scuola né per noi né per voi quindi io pescherò potuta là vicino peschi anche tu quindi apriamo vabbè ci sono queste cose che non le guardate i soliti bigliettini dopo facciamolo ok ah ho visto anche che c'è una box tipo selection guarda comunque veramente pure una ragazza si girisse io faccio un pensiero sia per tipo anche se dovete fare un regalo insomma è bello ad una persona perché comunque ci sono all'interno 10-12 prodotti novità a soli 10 euro che poi ragazzi è data sul mercato con 10 euro non ce la fate perché è soltanto anche perché comunque sono prodotti che generalmente la persona utilizza quotidianamente no io sono felicissima cioè quando arrivate questa box sì sì allora presto vai bu bu della rivella ottimini i ripieni cordinella alle nocciole wow no ragazzi secondo me sono buonissimi li faccio vedere perché speriamo che si vedano bellissimi sono ripieni spero di riuscire a fare una 24 ore speriamo non abbiamo un appoggio vabbè, appoggio la terra birra moretti oh, ok, che lì cosa verrà birra moretti filtrata a freddo e c'è un breacamo a coprire il prossimo video acqua, malto d'orzo, gran turco e lupo c'è un breacamo penso sia filtrazione a una temperatura sotto lo zero ma quanto è bella bellissima aspetta, la faccio vedere no, raga, ma è bellissima è un po' pipìa di solito la vedi sempre nella non è vista con questo formato filtrata a freddo questa penso sia la specialità sì, non ne capiamo tanto però io pesco ovviamente sempre ben imballata non può mai mancare un pacco di pasta le stagioni d'italia adoro queste sono i tortigliori 100% grano italiano qui, raga, trovate anche tanti prodotti italiani sì mai visto? infatti un'altra volta provai una pasta vi lascio tutto giù lì non ricordo il marchio ma, raga, era buonissima solo che da me non si trova infatti neanche questa mai vista? bella, raga un bel pacco di pasta 500 grammi sono integrale ad alto contenuto di fibre bellissima ok ci sta è carta non è plastica giusto? attenta a non fare il frecchio con la birra no, non cade ok, vai pesca vado oddio, cos'è? oh, protein queste le avevo viste spesso da Ocean be kind be kind crunchy peanut butter mamma mia secondo me questo è spaziale ciao, ciao raga, mi scioglia tantissimo crunchy peanut butter fateci sapere se la prenderete la prossima fateci sapere, raga no, io non vedo la che arrivi già la prossima ma pure io che poi raga automaticamente una volta che vi scrivete poi ve la inviano ok, vai pesca io ho pescato io ho pescato fai tutte pescato la pasta no, mi sono messa a ridere pensavo che fosse fringles ricola, ricola è la camomilla preparata per camomilla ottima sia calda che fredda ma è solubile è una sacchia del caramello pure io, ma è quella solubile secondo me è buona vabbè raga bella la proveremo dietro c'è pure come utilizzarla vi spiega tutto ok raga bella interessante ci sta adoro ti pare la challenge e non lo so raga se riusciamo ma io penso di sì vediamo ok vai ci sono tantissime altre quando ti pesca ah perché te le pesca sì ma iniziamo tipo a confonderci che era vita snella le linfe integra più zinco più calcio più potassio più magna più vitamine b3, b6, b12 gusto, mela e mandorla mela? eh gusto, mela e mandorla non so se si è mai vista mai vista? oddio almeno non devi sopra per cadere da me sembra tipo che voglio carina ma la so un po' ci sta zinco, calcio no raga da provare sono tipo quelle affamela e mandorla chissà vediamo bene vuoi questo? ritter sport acquista due tavolette concorso ma buono giù mi è vinto coconut e wafer mamma mia raga adoro della ritter sport bellissima eccola qua stiamo mettendo un po' di boite di andare su degustaboxi acquistare infatti quella di vitterer infatti sì ci sarebbe male ok vai sono curiosa fiscatù adoro mi faccio molte cose che cos'è? mio padre sarà pasta di scalogno vabbè questa la puoi da per soffriggere per i soffritti la puoi da fare con la pasta ma io ho paura in olio di girasole vediamo pasta di scalogno non è quello forte secondo me no lo scalogno è un po' più dolce se non sbaglio comunque raga eccolo qua ve la faccio vedere da fuori perché altrimenti mamma sa nella pasta forse con quella posso farla no questa pure se lo metti un po' con l'olio e lo fai soffriggere pure con insolore ma qui vabbè raga la proveremo ma che va in un video con la pasta vediamo la pasta la devo pescare io questo per mamma e per asele la drogheria l'altro invece è un altro marchio sapori creativi pepe rosa e lime cioè il limone da geliani sono delle cose particolari perciò mi piace tantissimo non sono cose scontate bello tipo questo se vai dopo c'è il fascicolo con i prezzi dopo vediamo raga e ti dammi grazie questo secondo me è cosa per 4 euro pepe rosa bello 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 ma anche poi qua aspetta qua è già macinato e qui no io vedo vedi forse sarà diviso dentro come lo so raga forse come lo vuoi utilizzare non lo so ok tocca a te fesca è sicura che tocca a me sì sì ci sono tantissimi altri prodotti mi piace mele integrale che è sta cosa con farina di grano saraceno integrale senza lattosio senza glutine non so se si vede della chef aspetta troppo contenta oh è pure il grande che è della parma secondo me è parmalat sì sì senza lattosio senza glutine voglio dire da quanto è penso 500 ml infatti sì oddio raga ma è bellissima troppo contenta ci sono ancora più cose rispetto all'altra volta però raga vedete tutto vi lascio il video ce ne sono due due? prendi quella e l'altro che cos'è una cioccolata? no è tipo budiglio mamma mia lo dissi a mamma dissi mamma devi comprare la panna cotta aspetta faccio vedere per me io è la è la questo è un budino cioccolato fondente 4 porzioni preparato per budino al cioccolato fondente ok raga ci sarò la 24 ore ci sono tanti prodotti quindi si può giocare tranquillamente e poi c'è anche panna cotta per la mia gioia adoro dobbiamo fare solo qualcosa di bellino da mettercelo dentro per far il vino qualcosa di abbattanto quello poi si capovolge quanto sono contenta no raga adoro una cotta gusto classica con paramello bello bello poi ti trovi avanti ti spiega tutto si 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 sono preparati quindi ok quindi penso io perché come se avessimo pescato un altro ci sono secondo me più prodotti rispetto all'altro o forse non lo so vabbè ritter spot morhaba barabba yogurt honey halzenut quindi yogurt miele nocciola cioè io mi complico la pena tu ti dico io no tu canzi a leggere l'inglese vedi sotto no ma pure la grafica c'è i colori c'è raga mamma mia questa secondo me è uno spettacolo sarà adoro adoro ok vai pesca enormissima oddio sembra un po' strano pavessini pavessini e cacao questo lo posso pure sbriciolare su tipo la panna cotta ci sarà secondo me una bella 24 ore aspetta quelli che uscirono erano quelli nuovi con la cioccolata 200 grammi 200 grammi 8 snack eccolo qua no cioè molto più bella rispetto a quella di marzo aprile no no questo è aprile maggio dove sei ok ultimo prodotto mi sembra una passata petti sugo con basilico ho fatto una tombola ok sugo con basilico petti 1925 senza zuccheri aggiunti a casa mi stanno proprio i pizza vendendo il basilico adoro no non mi piace ok eccola qui non c'è niente sicuro non c'è niente più tocchi a leggere la stima e fare tutto aspetta che va il prodotto del mese è l'ultimo questo della petti il sugo 2 euro e 0,9 allora avevo ragione pepe rosa sarebbe 3,29 poi la pasta di scalogno 1,90 gli ottimini di vella sarebbe i primi biscotti 1,89 questi sono i prezzi che voi troverete al suo mercato ecco perciò ma anche per capire più o meno orientativamente il costo della box già abbiamo superato con i primi tre prodotti che hai detto già abbiamo superato pavisini sempre 1,89 la barretta quello deve essere la protein no sicuro che la protein si è la protein ok la protein 2,49 poi preparati per dolci 1,32 l'uno la birra moretti non hai detto il prezzo di questo si l'ho detto 2,09 birra moretti 1,49 la pasta 1,99 i ritter sport 1,29 ciascuno vita snella sarebbe l'acqua 1,29 la camomilla solubile 2 euro e la besciamella chef 2,59 allora raga veramente top comunque io rimango sempre cioè io non so perché non l'ho fatta prima perché dico il giorno in cui ho detto voglio fare il lavoramento perché all'inizio ho detto vabbè non so no raga ma secondo me merita tantissimo mi dispiace che non è così tanto incentivata perché questa cosa mi dispiace veramente tanto perché secondo me merita merita ancora di più cioè merita di più il successo che ha perché per me vale la pena perché ci sta proprio una scelta accurata sui prodotti non sono scontati sono sempre e vi posso dire che è vero che poi dal momento in cui l'ho ordinata come esempio l'ho ordinata lunedì che è l'ultima settimana di aprile vi arriverà quella di maggio a fine maggio ma per me ne vale la pena perché significa che ci hanno messo proprio l'impegno il tempo comunque per crearle tutte nel minimo dettaglio e per imballarle comunque tutte perché i prodotti vengono super imballati anche perché essendo anche la birra dietro comunque e poi considera che la cioccolata l'hanno posizionata pure in modo tale che non si rompa io sono proprio distratta assolutamente ma poi raga c'è 10 euro ma pure esagerando se uno non vuole si approfittare tipo dello sconto ma chi è che non ne approfitta 15 euro cioè è fattibile perché ci sono pure le spezioni all'interno compreso di tutto poi compreso di nuovo no assolutamente si valutiamo l'altra ok secondo me è un ottimo regalo anche da spedire tipo a casa che ne sono familiari sì secondo me è bello questa cosa ok raga io spero che questo video speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao